Allora, buonasera a tutti. Io devo per forza e per piacere fare dei ringraziamenti sentiti di cuore. Vorrei iniziare nel ringraziare chi ha reso possibile tutto questo, il Comune di Assisi e soprattutto il Sindaco del Comune di Assisi, Stefania Proietti, che inviterei qui sul palco per un breve ringraziamento a tutti. Prego Stefania, se puoi usa il microfono mio. Signor Presidente, benvenuti tutti. Signor Procuratore, grazie per essere qui, grazie anche per la possibilità di fare questo saluto, che è un saluto a voi e con gratitudine per aver organizzato un momento di riflessione, potremmo dire, su un tema di grande attualità. Intanto, ecco, il grazie è duplice fatto a nome della città perché Assisi vuole essere una città messaggio anche per tutto ciò che riguarda appunto cause che hanno a che fare con la giustizia o l'ingiustizia che essa sia. Ecco, io vi lascio dandovi un buon lavoro e dicendovi che questa città con le sue strutture è sempre a disposizione della riflessione dove al centro c'è l'uomo, l'umanesimo, il nuovo umanesimo, la fraternità, il tema dell'uomo che è centrale, soprattutto se quest'uomo soffre, come nella vicenda che tratteremo con gli approfondimenti che avremo il piacere di sentire. La ringrazio, ringrazio lei, i suoi collaboratori e anche tutti coloro, anche i nostri concittadini che hanno fortemente voluto che questa bella iniziativa si tenesse ad Assisi. Grazie e buon lavoro. Passo a ringraziare i nostri ospiti, parto dall'Avvocato della Valle, Avvocato storico, come tutti voi sapete, di Enzo Tortora. Addirittura, devo dire, Avvocato, ho rivisto su YouTube delle immagini, degli spezzoni di una sua ringa da pelle d'oca. Ecco, questo lo devo dire, invito i colleghi, se hanno modo e tempo, di andare a rivivere quei momenti. Sono momenti toccanti, anche dal punto di vista professionale, più che umano. Poi ringrazio la senatrice Francesca Scopelliti, che è l'ex compagna di Enzo Tortora, ci racconterà l'uomo Enzo Tortora, ci racconterà il dramma, l'intensità di quel dramma. Ringrazio il procuratore capo della Procura della Repubblica di Perugia, il dottor Cantone, che insieme all'Avvocato della Valle approfondiranno quelli che sono, che furono i risvolti processuali del caso Tortora. Ringrazio un volto noto della TV, una giornalista di Letre, la Mariolina Sattanino, che rifletterà insieme a noi sul ruolo dei media, sul ruolo che ebbero i media all'epoca di Enzo Tortora e soprattutto sul ruolo che hanno oggi i media dopo quello che accadde nei confronti di Enzo Tortora. Io ringrazio, devo farlo, ringrazio gli amici e colleghi del direttivo della Camera Penale di Perugia. Vi ringrazio perché, come molti di voi sanno, il mio mandato è al tramonto, un tramonto dolcissimo, ma la giornata è stata splendida, devo dirlo a loro, l'hanno resa splendida i colleghi del mio direttivo fin dal primo mattino. Ringrazio soprattutto la Donatella Donati che ha pensato a questo evento, l'ha sognato, l'ha visto e l'ha realizzato concretamente. Ringrazio l'amico Delfo Berretti che ha aiutato la Donatella Donati a fare, ad organizzare questa sede meravigliosa, questo evento in presenza, con tutte le garanzie e le sicurezze del caso che la pandemia ci impone. Io vorrei partire in questa mia introduzione leggendovi un articolo in cui mi sono imbattuto sulla vicenda Enzo Tortora che descrive la cornice del quadro che poi i nostri ospiti andranno a delineare, a disegnare. Ora, questo articolo racconta il giorno in cui arrestarono Enzo Tortora. Quello che accadde era il 16 giugno del 1983. Enzo Tortora era in una stanza dell'Hotel Plaza di Roma e viveva ignaro di quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore il suo quotidiano umano e professionale. Pensate a voi, alle vostre vite, che alle quattro di una notte piombano nel baratro di una notizia che neppure nei peggiori incubi voi potevate immaginare. Ve lo leggo perché credo che ne valga la pena. La sera del 16 giugno del 1983 Enzo Tortora ricevette strane telefonate. Erano giornalisti che gli chiedevano se fosse vero che stava per essere arrestato come affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Quindi voi immaginate Enzo Tortora nella stanza d'albergo che riceve queste strane telefonate. Tortora pensò ad uno scherzo, non si mise a ridere, non era il tipo, ma non si preoccupò, non chiamò avvocati, non avvertì la sua compagna, andò a dormire. Lo presero i carabinieri alle quattro del mattino di venerdì 17 giugno dalla sua stanza dell'Hotel Plaza di Roma in Via del Corso. Quando uscì dalla stazione dei carabinieri per essere portato a regina Celi aveva lo sguardo allucinato, ma, dirà poi lui, era ancora convinto che si trattasse di un errore, di facile soluzione. Pensava a qualche ora per chiarire tutto. I fotografi intorno urlavano. Le manette, le manette! Qualche passante gridò, bastardo, devi marcire in galera! I due carabinieri, che lo tenevano sotto braccio, diedero una leggera spinta verso l'alto. Le manette ora si vedevano bene, le fotografie potevano essere scattate. Il mandato di arresto parlava di associazioni camorristiche e traffico di droga. Tortora non era il solo quella mattina in manette. Due sostituti procuratori napoletani, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, avevano firmato 855 ordini di cattura. 855. In 216 casi furono compiuti errori di persona. 216 persone arrestate o coinvolte per sviste su nomi e indirizzi. L'arresto di Tortora occupa ogni spazio televisivo possibile. L'Italia, come sempre avviene in questi casi, ridacchia. Uno potente, uno in vista, è finito nei guai. E che guai. Lui poi è così distinto, così conservatore, così borghese del nord. E ora invece la televisione, la stessa televisione che l'ha reso famoso e fortunato, dice che spacciava droga. Anche nelle redazioni dei giornali si ridacchia. Tortora non è simpatico. Un po' lo invidiano per il successo di quella trasmissione. Portobello, che era la sua trasmissione, che si è inventato dal nulla nel 1977, andava in onda il venerdì sera. Nel periodo d'oro raggiungeva soglie d'ascolto da finale dei mondiali. 26 milioni di telespettatori nel 1980. L'altra frase che si sente ripetere è questa. Ascoltatela. Se l'hanno arrestato in quel modo, qualcosa avrà fatto. Lo dice anche in un'intervista Camilla Cederna. L'unico che prova ad andare controcorrente fu Enzo Biaggi. Firma un editoriale sul Corriere della Sera che si intitola e se Tortora fosse innocente. La domanda, invece, i magistrati che hanno ordinato l'arresto non se la pongono proprio. Per loro Tortora è un mostro, un criminale travestito da bravo presentatore. Si fanno vivi improbabili testimoni che giurano di averlo visto passare bustini di droga ai cameraman negli studi televisivi. Ma come c'è finito Tortora in tutto questo? Qui si entra nel campo dell'ancora più surreale. Un camorrista, tale Barbaro, detenuto a Porto Azzurro, ha mandato dei centrini da tavola a Porto Bello perché venissero messi in vendita. La redazione ripone i centrini da qualche parte assieme alle migliaia di altri oggetti in attesa di essere valutati o semplicemente dimenticati. Il camorrista la prende male. Non sa scrivere. Così chiede al compagno di Cella, Giovanni Pandico, di inviare lettere sempre più minacciose alla trasmissione. Alla fine la RAI risarcisce questo Barbaro con 500.000 lire. Ma Pandico non basta. Sta diventando collaboratore di giustizia. Racconta ai magistrati che quei centrini erano in realtà partite di droga. Quando i magistrati chiedono ad altri camorristi pentiti se sia vero che Tortora fosse uno di loro rispondono tutti sì. Non possono credere che basti così poco a mandare nel caos un'inchiesta. Intanto dall'agendina telefonica della moglie di un affiliato alla nuova camorra organizzata saltano fuori un nome e un numero. Tortosa con 081. Tanto basta, scusatemi, tanto basta. i magistrati dicono che lì in realtà c'è scritto Tortora e non Tortosa. Forse basterebbe digitarlo quel numero ma nessuno lo fa. Il 14 agosto intanto Tortora è stato trasferito nel carcere di Bergamo e sentite cosa accade la barbarie. I fotografi si appostano sui tetti per fotografarlo mentre a torso nudo cammina per il cortile da solo nell'ora d'aria. Due avvocati già affermati ma che in quel periodo diventeranno famosissimi uno l'abbiamo qui Alberto Dallora e Raffaele della Valle lavorano alla strategia difensiva hanno di fronte alla granitica convinzione dei magistrati napoletani e giornali che rincorrono notizie senza senso conti trovati all'estero ville yacht comprati con i soldi della droga nulla di vero ovviamente. dopo più di sei mesi di carcere Tortora ottiene gli arresti domiciliari va a casa a Milano accetta la candidatura alle elezioni europee con il partito radicale Marco Pannella ha avuto una delle sue forti e vincenti intuizioni politiche Tortora ottiene 415.000 preferenze e torna ad essere un uomo libero nel frattempo a Napoli si sta svolgendo il processo di primo grado il pubblico ministero dice che Tortora è stato eletto con i voti della camorra dice anche che un uomo della notte lo definisce con una frase presa da qualche manuale della banalità cinico mercante di morte il 17 settembre 1985 viene condannato a 10 anni di carcere la leggenda dice che appena usciti dal tribunale i giornalisti abbiano brindato forse non è vero certamente quelli che gridano alla sentenza scandalo sono pochi alla fine a fine 1985 Tortora si dimette da euro parlamentare rinuncia all'immunità torna agli arresti domiciliari deve passare un altro anno perché il teorema accusatorio venga smontato il 15 settembre 1986 la corte di appello di Napoli assolve Tortora con formula piena i giudici che emettono la sentenza ricostruiscono i fatti i pentiti in carcere cercavano facendo un nome famoso di ottenere sconti di pena non esisteva nessun riscontro né forse era stato mai cercato il 13 giugno 1987 la corte di Cassazione conferma l'assoluzione nessuno dei magistrati che avevano condotto l'operazione Portobello tra virgolette vedrà la sua carriera penalizzata solo uno dei pentiti che accusarono Tortora Gianni Melluso detto cia 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 chiederà pubblicamente scusa alla famiglia nel 1985 Tortora era tornato in televisione la puntata di Portobello era iniziata così dunque dove eravamo rimasti il 3 novembre di quell'anno era stato eletto presidente del partito radicale negli anni che gli rimangono da vivere si batte per cercare di migliorare la situazione delle carceri Enzo Tortora morì per tumore a Milano il 18 maggio del 1988 durante una sua visita una visita di Enzo Tortora nel carcere di Ascoli Piceno Tortora incontrò Raffaele Cutolo il capo della nuova camorra organizzata si presenta a Tortora così buongiorno io sarei il suo luogotenente sono felice di stringere la mano ad un innocente Giorgio Bocca ha definito il caso Tortora il più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro paese ora prima di dare la parola ai nostri ospiti vi pongo una domanda una riflessione sono passati circa 40 anni da questo dramma cosa è cambiato in noi cosa è cambiato nell'opinione pubblica siamo un popolo garantista dopo 40 anni o siamo rimasti quelli o siamo rimasti colpevolisti guardate io dico sempre che il garantismo è come la prudenza alla guida molti ne hanno sentito parlare qualcuno ne predica a suo uso e consumo ma solo vivendo in prima persona un incidente stradale si coglie il senso il significato vero della prudenza non aspettiamo di finire indagati in una qualche indagine anche per sbaglio non aspettiamo che finiscano indagati i nostri amici più cari rimaniamo garantisti sempre che l'indagato sia un amico o un nemico il garantismo non deve essere più un concetto da imparare il garantismo per noi deve rimanere un modo di vivere deve essere un atto supremo di sensibilità vi ringrazio e io passerei la parola a questo punto se l'avvocato della valle non me ne vuole io la darei al dottor Cantone perché vorremmo approfondire nel dettaglio quello che accadde come sia potuto accadere tutto questo ecco dottor Cantone a lei la parola grazie a tutti grazie a tutti io su questo vorrei cercare di intervenire perché l'avvocato dice come era possibile soprattutto se è cambiato qualcosa io credo che è cambiato tantissimo e tutto quello fu possibile per il fatto che non c'era assolutamente una legislazione che riguardava quella specifica diciamo situazione nel codice vecchio nel vecchio codice che era il codice Rocco emendato da una serie di interventi normativi ma non dimentichiamo anche molto rafforzato dal punto di vista repressivo per le vicende che c'erano state durante il periodo del terrorismo non c'era una norma per esempio sulla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati i coimputati a tutti gli effetti venivano considerati dei dichiaranti al pari dei testimoni io credo che noi dobbiamo dal punto di vista giuridico moltissimo attortano anche sotto questo profilo la riforma che io credo di civiltà dell'articolo 192 del codice di procedura penale che ormai è un dato acquisito non c'era anche perché voglio dire gli avvocati dell'epoca lo sanno bene che nei processi di terrorismo certamente non ci fu un grande rispetto delle garanzie si disse era una guerra e però quella guerra spesso non fu combattuta diciamo in punta di fioretto ma con le spade se non con le asce noi avevamo una normativa completamente diversa che non conosceva la valutazione per esempio il riscontro e soprattutto il riscontro non solo sul fatto ma il riscontro individualizzante quindi primo aspetto l'assenza assoluta di una normativa che consentiva di valutare davvero i riscontri le dichiarazioni dei pentiti erano dichiarazioni diciamo considerate a tutti gli effetti pari delle testimonianze e fra l'altro in un contesto è giusto raccontarlo e dirlo ovviamente senza che questo voglia essere assolutamente una giustificazione perché ognuno degli 800 imputati non solo Enzo Tortore aveva gli stessi diritti sia chiaro ma in un contesto che ovviamente va anche ricordato in quel momento Napoli era oggetto forse della più grave guerra di camorra che c'è mai esistita nel paese una guerra di camorra che è passata molto poco osservata dai testimoni ma era una guerra che faceva 400 morti l'anno io dove abitavo nel paese in cui abitavo era giovanissimo ricordo di aver visto fra i 12 e i 13 omicidi passando per strada è stato un periodo drammatico della vita del paese il periodo drammatico che è stata la lotta fra i cutoliani e gli anticutoliani inserita in un contesto particolare che era quello del periodo post terremoto certo non si è andato diciamo nel rispetto assoluto delle garanzie ma va detto per chiarire il dato e allora io direi se una legislazione certamente garantista c'è stata forse ha ragione l'avvocato Boichicchio noi non eccediamo nel garantismo o quantomeno diciamo siamo spesso garantisti quando siamo interessati e molto spesso colpevolisti quando siamo spettatori però è vero che è cambiato veramente tutto io non credo che da quel momento siano passati 40 anni siano passati 400 anni dal punto di vista della cultura giuridica è cambiata la legislazione della custodia cautelare poi sappiamo che cosa è accaduto nel nostro paese nel 92 con le stragi che ha un po' cambiato tutto ma il codice di procedura penale deve moltissimo alla vicenda di Enzo Torto un codice accusatorio in cui c'era diciamo avrebbe dovuto esserci c'è comunque una terzietà che il vecchio codice chi non l'ha visto non può ricordarselo ma il vecchio codice aveva la figura anfibbia del giudice istruttore che faceva il giudice e il pubblico ministero e al dibattimento si portavano i verbali fatti durante le indagini e quasi sempre non si sentivano neanche i testimoni che si limitavano a dire confermo quando reso in istruttore avvocato della valle lo ricordo certamente meglio di me io ero giovanissimo ma ho cominciato col vecchio codice di procedura penale ecco io direi che dopo 40 anni noi dobbiamo ringraziare anche Enzo Tortora per questo perché è vero che ha pagato un prezzo diciamo enorme un prezzo che non è certamente ripagato da tutto quello che è avvenuto dopo perché i riconoscimenti ha ragione l'articolo Enzo Tortora l'aveva avuto per paradosso molto dopo che è morto ma questo purtroppo capita molto spesso piuttosto che da vivo anche diciamo dopo la sua assoluzione non ebbe la restituzione che avrebbe meritato quella restituzione l'ha avuta paradossalmente dopo morto e questo è grave nella cultura del nostro paese mai avvenuto ma io credo che il nostro ringraziamento principale sia nel dire che quel sacrificio e tante vicende della vita di tutti i giorni nascono dai sacrifici individuali ha prodotto dal punto di vista giudiziario un mondo migliore certo potremmo diciamo discutere da qui a domani tante altre cose migliori ma io sono convinto che un processo Tortora oggi non ci potrebbe più essere non ci potrebbero più essere quei processi monstri di 800 imputati anche perché c'è un giudice che li valuta c'è il riesame che li decide cosa che all'epoca era appena all'inizio c'è tutto un altro mondo e di tutto quel mondo io credo e lo ribadisco e chiudo noi dobbiamo moltissimo al sacrificio di Enzo Tortora grazie grazie dottor Cantone ora quindi per lei il sacrificio di Enzo Tortora è stato tra virgolette utile non è stato vano ora vediamo attraverso le riflessioni i racconti dell'avvocato della valle se quel sacrificio era proprio indispensabile quindi darei la parola all'avvocato della valle grazie per l'invito che avete formulato nei miei confronti ringrazio i presenti e per in un certo qual senso decantare una situazione che potrebbe essere anche poi non dico esplosiva ma sicuramente incandescente vorrei esordire con una battuta ovviamente o se si vuole un invito provo un profondo disagio di carattere meramente fisico ovviamente che mi è provocato da queste lampade incredibili che mi evocano inquisizioni e io vorrei tranquillizzare gli organizzatori e consigliarli di spegnere perché io dirò la verità tutta la verità al di là delle lampade che molto spesso in allora e non dico oggi sono utilizzate in determinate situazioni ed in determinati paesi spegniamo un po' le lampade che non sono necessarie anche perché il bello della diretta è quello di poter guardare negli occhi agli interlocutori io sto parlando nel vuoto il che ovviamente mi provoca il disagio di cui prima detto questo in attesa di una smorzatura delle luci grazie alla regia e voglio dire che noi non vogliamo celebrare un processo alla magistratura ce n'è già ed avanzo ci stanno pensando altri pentiti più o meno pentiti magistrati che tra di loro discettano in subietta materia rispettoso della regola di Cesare tramandata da Sallustio però non posso fare a meno di confrontarmi con una situazione che non è di errore giudiziario dottor Cantone ma è di autentico orrore giudiziario su questo non transigo e chiunque volesse addurre le circostanze generiche a taluni mi opporrei come la forza del pubblico ministero dottor Cantone quando è in grado di quando fa il procuratore della Repubblica e sostiene la sua tese qui non ci sono attenuanti generiche qui ci sono certamente dolo no ma ci sono delle colpe gravissime ci sono delle lacune culturali che neppure la legge in allora in vigore iniziale sui pentiti può giustificare qui c'è una carenza assoluta di indagine ho sentito la parola indagine quale indagine indagine nei confronti di Enzo Tortora asseritamente chiamato in corretà dopo una miriade di interrogatori che aveva reso Pandico e dopo numerosi nomi di personaggi che secondo Pandico erano la nuova camorra a un certo punto come Minerva dalla testa di Giove esce il nome Enzo Tortora ed era il marzo dell'83 dal marzo al giugno dell'83 non è stato eseguito nessuna dico nessuna indagine nei confronti di Enzo Tortora ma come questo squilibrato pluricondannato e dichiarato infermo di mente con sentenza passata in giudicato che era Pandico dice queste cose e voi non fate nulla e voi non disponete un pendinamento e voi non disponete quelle che già si cominciava a fare intercettazioni telefoniche e voi non disponete un accertamento bancario e voi non disponete una perizia tricologica nel momento in cui arrestate Tortora per vedere se un eventuale exitus poteva quantomeno condurlo nel perimetro degli spacciatori zero e agli avvocati che sono abituati a studiare i fascicoli leggo la relazione dei carabinieri la relazione conclusiva di questo impasto d'ontica indagine che veniva definita da una stampa compiacente schifosamente compiacente parentesi Melluso era autorizzato a rilasciare interviste al settimanale oggi a una signora giornalista che era una parente o consuocera di un procuratore della Repubblica di Napoli questo era il clima le relazioni rapporto di polizia giudiziaria senza data per dire la sciatteria ma ne vedrei centinaia questo dovrebbe essere un processo esaminato nell'università per dire come non si fa l'indagine rapporto di polizia giudiziaria senza data e senza firma allegata agli atti del processo Tortora sentite Tortora Enzo nato a Genova il 30 novembre 1928 ci volevano i carabinieri per fare le indagini aveva 26 milioni di telespettatori potete immaginare domiciliato a Milano via piatti numero 8 presentatore Rai TV giustanza Tannino occhio perché qui proprio è il lapsus volrei dire l'ombrosiano noto personaggio del mondo dello spettacolo nulla a questo attualmente conduce la trasmissione televisiva Portobello in onda sulla seconda rete della TV ci volevano i carabinieri per fare questa indagina tutti venerdì alle ore 20.40 perfetto proprio per questa trasmissione gode della ammirazione del pubblico sia in campo nazionale che internazionale vorrei dire proprio per questo è stato inquisito perché decollava un'indagine altrimenti sarebbe stata a rasoteria attenzione si vuole ma chi lo vuole si vuole in un rapporto dei carabinieri si vuole che sia dedito allo spaccio delle sostanze stupefacenti nell'ambiente artistico da lui frequentato e dulcis in fondo la droga la riceverebbe da alcuni affiliati della NCO della zona di Milano con i quali sarebbe in stretti rapporti sul suo conto non si annovano pregiudizi ma dove vogliamo andare ma come si può sostenere una cosa di questo genere e il tribunale che ha giudicato Enzio Torto di là dei PM che non hanno fatto il loro mestiere correttamente perché indagini non sono state fatte ma il tribunale cos'era il processo che io ho celebrato e che mi ha distrutto per un anno e mezzo salvo poi trovare la giustizia ecco perché in fine dei conti poi dico che non è sotto accuso la magistratura nella sua intierezza era una farsa perché quando arrivavano i personaggi i asseriti pentiti tutti ospiti nella caserma Pastrengo allegramente brindando e sottraendosi agli obbligi di legge che avevano perché erano dei pregiudicati venivano a portare l'obolo all'accusa credo che anche un bambino avrebbe capito la assoluta irrilevanza la mancanza di un minimo di spessore di queste chiamate asserite corretta e quando poi con lo starnazzare di un giornalismo becero tutto collegato al PM tant'è che io feci il primo a coniare lo slogan atti depositati in edicola perché prima lo sapevano i giornalisti atti ovviamente negativi perché interpretati in quel modo a un certo punto noi sentiamo la radio che dicono c'è la prova regina e lo sentiamo tre mesi dopo l'arresto tra l'altro quando non c'era nulla tutti spaventati c'è la prova regina c'è un noto pittore ah io dico sarà Velasquez che si è risuscitato sarà un Goia sarà un Modigliani non lo so che dice e come che accusa Enzo Tortora e poi vai a vedere era un soggetto mitomane noto per avere stampato dei francobolli USA con la sua figura e che circolavano per Milano eppure i giornalisti lo accreditavano e quando un'altra volta sempre questo giornalismo becero dichiara che Tortora è incastrato perché nell'agenda di un certo Pucca c'è il suo nome e il suo indirizzo telefonico noi rimaniamo basiti deposito degli atti non li abbiamo siamo curiosi di vedere questa agenda che porterebbe il numero telefonico di Enzo Tortora che ancorché fosse stato vero non avrebbe avuto nessuna rilevanza perché era in possesso di delinquenti incalliti i quali potrebbero avere anche idea di sequestrare un soggetto come Enzo Tortora che in allora era in auge abbiamo dovuto aspettare il 30 settembre del 2000 del 1983 quando il povero disgraziato Tortora ormai sconquassato biologicamente attendeva notizie e quella mattina dall'ora è Dio presenti assistiamo all'ennesima farsa questa volta però c'è un altro giudice perché la procedura era diversa il PM aveva lasciato momentaneamente l'indagine per consegnarla al giudice istruttore senta signore Tortora abbiamo trovato nell'agenda di Pucca noto camorrista che era nella macchina di Casillo macchina che era saltata in aria per un attentato il suo numero di telefono cosa ha da dire Enzo Tortora aveva una dignità eccezionale aveva una schiena diritta perché aveva la forza dell'innocenza perché aveva la forza della cultura che lo rendeva invisibile lo rendeva inviso a quella canea di giornalismo che c'era con la sua dignità intanto dice primo vorrei sapere vedere i numeri secondo quando anche fosse vero avreste dovuto tutelarmi perché se nell'agenda di noti sequestratori delinquenti c'è il mio numero francamente se avesse trovato il numero suo dottor Pincopallino lei si sarebbe preoccupato risposta i nostri uffici non sono organizzati come gli uffici quasi con quell'aria lasciamo perdere che poi mi si volta lo stomaco come gli avvocati dall'ore della valle non abbiamo portato l'agenda cacchio sei venuto da Napoli a Bergamo quindi non possiamo farle vedere noi non timidamente ma abbastanza agitati diciamo la nostra e chiediamo che ce la facciano vedere entro tre giorni andiamo a Napoli andiamo a Napoli vediamo i numeri facciamo l'indagine non è che siamo dei fenomeni non siamo stati dei fenomeni come difensori perché il processo era quello facciamo un'indagine e apprendiamo primo che non era il numero di Enzo Tortore secondo era il numero di uno che vendeva delle bibite in quel di Salerno perché bastava fare il numero bastava fare il numero e allora al dibattimento indichiamo il titolare di quel numero telefonico perché ci venga da confermare ancorché non tenuti che quel numero non si corrispondeva a Enzo Tortore e che con quel numero si è marciato per due tre cinque mesi alla grande e qui c'è la farsa siamo in dibattimento il presidente è un presidente che arrivava non so da dove applicato risulta mi risultava era in pretura se non erro in una delle isole vicino a Napoli però è stato applicato per questo processo ma per amor del cielo a pensare male si fa un peccato però talvolta ci si azzecca comunque presidente vorremmo sentire il test eccetera eccetera perché venga qui arriva il test consapevole dica lo giuro lo giuro domanda sente il numero 011 bla 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 è il suo napoletano verace spontaneo certo che è un mio il presidente burbero che prova ci dà presidente faccite un numero questa è storia non sono fantasie dell'avvocato della valle presidente faccite un numero ma allora a dove vogliamo andare ma dove si poteva andare con questa indagine ma queste sono le quisquiglie per non parlare il più famoso degli avvocati del processo Enzo Tortora sa come si chiama avvocato come in atti tra virgolette perché l'avvocato non c'era era un difensore di ufficio però non era presente difeso da avvocato come in atti questa è una delle amenità di questo scempio di carattere procedurale e allora la domanda è cambiato qualcosa io avevo i capelli neri e avevo 43 anni oggi nel 81 quasi 82 sono cambiato ho capelli bianchi non credo però che nella sostanza sia anche cambiato il dottor Cantone aveva 20 anni entrava in magistratura 11 anni dopo nel 91 lui è cambiato perché ha cambiato uno status ma non c'entra niente col processo e allora che cosa è cambiato sì io parlo con gli avvocati che sono alla sbarra tutti i giorni è cambiato ma da un poco tempo a questa parte è cambiato in peggio questo è il problema di fondo perché si è ricorso a delle fictio iuris cioè delle finzioni per dirci che noi siamo il paese più democratico e più libero e più garantista del mondo salvo poi grazie agli appoggi correttivi di una corte costituzionale che lascia il tempo che trova così come viene eletta come viene per il CSM da 40 anni che io dicevo estraiamo a sorte è cambiata nel senso che per esempio quello che era la carcerazione preventiva un nome pesante un nome che quasi evocava una certa violenza la chiamiamo custodia cautelare è un nome bellissimo uno si mangia l'angelo custode che custodisce questi soggetti nelle carceri dove avviene di tutto vogliamo parlare di Santa Maria Capovetere tanto per fare un esempio vogliamo parlare del continuo affollamento delle carceri tanto per fare un esempio custodia cautelare la prova si forma in dibattimento è stata una conquista io come un pirla diciamo delle nostre qualunque perché tifavo per questo nuovo codice finalmente la prova si forma in dibattimento è peccato che però se il PM ha interrogato il test due o tre anni prima magari con i fari accesi o magari con la guardia di finanza i carabinieri la polizia quindi con un complesso di persone che già di persetto la loro presenza incute timore voi immaginate un testimone dalle mie parti uno che viene dalla Val Camonica di Cassadale ha problemi viene convocato in caserma da un PM con tutto questo schieramento ho qualche dubbio sulla sua genuinità del suo dictum comunque descrive certi fatti viene in udienza dove finalmente la prova si forma in dibattimento e per esempio dice no guardi quel giorno in quell'incidente il semaforo ho riflettuto bene non era verde ma era rosso ma dico qualsiasi circostanza che lo discosta da quello che in precedenza aveva dichiarato e allora lì c'è il PM si alza lei due anni fa bla 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 ha detto questa come la mettiamo il povero Zoticone bergamasco ma milzù no mi ui di in sci cioè io ho detto così boh e ma guardi che se lei ha detto così risponde di falsa testimonianza eccetera e quindi il teatro finisce se ho detto così come quella canzone se le cose stanno così ed è finito il teatro della prova si forma in dibattimento e così è una serie infinita di situazioni in più c'è un altro elemento che quando noi invocavamo non vorrei fare tardi chiedere scusa magari ve lo dico dopo adesso finisco così altrimenti non voglio tediarvi oltre grazie la questione noi invocavamo allora la separazione delle carriere sono stato tra i primi a dire guardate che l'arbitro sul ring sta vedendo due pugilatori ma uno dei due pugilatori è cugino è parente affine contiguo al giudice non c'è terziarietà qualsiasi cosa non mi convincete ma allora tra l'altro il protagonista procuratore della Repubblica Tu Kurt era un par inter pares come magistrato tant'è che chi vi parla sembra sembra che voglia accusare la magistratura ma per una parentesi io sono stato figlio di integerimo magistrato e mi spiace quando devo dire certe cose io ho vissuto in tribunale ho vissuto otto anni nel palazzo di giustizia di Monza conosco le cose e allora dice ma questa cosa non fa bene ma allora ripeto il procuratore della Repubblica e il presidente del tribunale quantomeno avevano uno stesso peso un procuratore della Repubblica normale non aveva molto un presidente del tribunale non aveva un grande metus o reverenzia perché meno male erano par inter pares ma oggi non è più così perché le distrettuali nazionali che fanno un lavoro l'ha dimostrato Cantone il lavoro che ha saputo fare cui maxima reverenza e debetura a cui vanno riconosciute le sue doti perché ha rispettato le norme ma una distrettuale antimafia oggi ha un potere talmente enorme ed esorbitante materiale e psichico materiale perché ha disposizione tutto e di più rispetto a un G di 28 30 anni che arriva fresco di università a dover decidere sulla domanda della procura distrettuale e allora evidentemente la terziarietà viene ancora meno perché poi oltretutto essendo nello stesso concorso dipendente dallo stesso CSM e molto spesso dipendente dal parere che il PM dà in merito alla carriera magari del giudice che sta giudicando c'è anche un problema non più di carattere diciamo evidente ma anche un problema concreto e allora che fine ha fatto questo desiderio nostro della separazione della carriera abbiamo una richiesta di referendum e concludo e vi do la mia esperienza io volevo votare ovviamente per la separazione della carriera mi sono presentato in un comune perché ero in vacanza in agosto della Toscana ho chiesto di andare a votare il personale gentilissimo quattro giorni non riuscivo a votare chiedevo ma in sostanza non c'erano neanche i moduli poi mi conoscevano in questo comune probabilmente ha detto qui facciamo una magra figura è arrivato il 30 questo è tutto documentato se qualche giornalista molto affine o molto contiguo agli uffici non ci crede può andare a vedere il 30 agosto finalmente è arrivato il modulo dal ministero degli interni e ho potuto esprimere il mio giudizio chiedevamo la riforma di quell'altra fictio iuris della obbligatorietà dell'azione penale che è la più grossa stupidaggine che ci hanno contrabandato per 50 anni perché non è così perché c'è un processo che ha la corsia preferenziale e viaggia veloce più della luce e c'è processi che traccheggiano vivacchiano fino a che arriva quello che per certi la prescrizione è una mannaia ma è una sacrosanta cosa chiedevamo una riforma della prescrizione io sono favorevolissimo a Draghi perché lo stimolo e lo reputo una persona corretta ma questa riforma ha sospeso l'ergastolo della prescrizione previsto da quella simpatico nostro collega tra l'altro ministro di un tempo ma se poi vai a vedere in sostanza non ha agito come dovrebbe agire un saggio amministratore se io da Milano a Sondrio impiego due ore e venti col treno per accelerare non cambio l'orario ferroviario metto le travertine metto i binari poi metto un locomotore veloce e vado un'ora e dieci qui è così si dà un enorme potere di deroga però entriamo nel particolare lasciamo così diciamo che comunque invece di accelerare il processo allungando i termini di prescrizione io mi chiedo ma l'Europa sono dei cretini d'Europa possono accontentarsi leggendo una cosa che dice che i termini di prescrizione si allunghano ma se continuano a rimproverarci siamo condannati ripetutamente perché il nostro processo legge pinto va piano e non capite che questa è una truffa no? e no perché altrimenti l'Europa non c'è dai quattrini e allora cambiamo la prescrizione con degli step di cui poi ne vedremo delle belle in corte costituzionali concludendo ragazzi mi rivolgo ai miei giovani colleghi dobbiamo sperare lo stesso perché poi c'è un forte movimento anche all'interno di magistrati che sanno rendersi conto della situazione c'è un movimento di opinione e io sono convinto che tutto questo inciderà per illuminare il legislatore per fare in modo che veramente il nostro paese torni ad essere un paese dove prevale il ragionamento dove prevale quello che diceva Bentham lo strofinio dei cervelli dove uno non è non prevarica l'altro e soprattutto dove c'è la figura del giudice terzo indipendente autonomo che sa discendere il bene dal male che sa distinguere chi ha torto che ragione grazie 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 avvocato della valle davvero interessantissimo lei ha anche lanciato dei temi che se affrontati nel dettaglio ci tratterrebbero qui per molto tempo io direi tuttavia a malincuore di ritornare in quella stanza d'albergo vi chiedo di ritornare in quella stanza dell'hotel plaza alle 4 di mattina del 17 giugno del 1983 francesca ti chiediamo di raccontarci le sensazioni di Enzo Tortora cosa provò immaginate tutti cosa provò Enzo Tortora ad essere condotto da due carabinieri in manette in evidente presumibile stato di sciocca emotivo con un'accusa tanto grave quanto infamante ti prego quindi Francesca di renderci edotti di raccontarci le sue giornate le sue serate le sue lettere grazie grazie a voi grazie al presidente di questo invito ma cosa provò Enzo quando fu fermato bloccato e violentato in quella camera di albergo non lo racconto io lo disse lui lo colpì una bomba al cobalto perché quell'avviso di garanzia per Enzo rappresentò davvero un proiettile che non era altro che quel tumore che lo ha portato via dopo 5 anni quel proiettile che lui ha quel male che lui ha dominato perché aveva assunto degli impegni con il mondo carcerario con il mondo politico con la giustizia la sua battaglia per la giustizia giusta lui aveva detto e quindi ha dominato quel male perché aveva detto che si sarebbe occupato di giustizia al Parlamento europeo dove andò insieme ai radicali di Marco Pannella e lo fece perché disse che si sarebbe occupato della civiltà delle carceri e lo fece come presidente del partito radicale perché disse che doveva denunciare la situazione della giustizia italiana e voleva che non ci fossero altri casi tortora cosa che purtroppo continua a verificarsi perché il numero degli errori giudiziari che ci sono in Italia sono troppi per un paese civile per uno stato democratico in un anno ce ne sono mille persone che vengono arrestate ingiustamente mille al giorno sono mille all'anno sono tre al giorno non so se per voi è un numero accettabile per me no oggi ricorre il 15 settembre di 38 anni fa il giorno dell'assoluzione di Enzo Tortora che vive fammelo dire Raffaele in lacrime Raffaele della valle 38 anni fa Enzo viene assolto grazie a una corte di appello che aveva capito la mostruosità del processo di primo grado il giudice Michele Morello smontò nella sua relazione tutto quello che aveva rappresentato la base e la forza della sentenza di condanna che si basava solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni di 17 pentiti Enzo fu accusato da due pentiti prima che poi però divennero 17 perché furono cercati nelle carceri gente che non aveva mai avuto niente a che fare anche con il caso specifico dell'accusa figuriamoci con Tortora e poi vennero fuori queste macchiette questi personaggi più o meno pittoreschi come Melluso e tutti i personaggi che poi quando Tortora fu assolto scrissero lettere di pentimento del pentimento dove dicevano io noi lo sappiamo che lei è una persona per bene Melluso scrisse sono stato costretto a recitare una sceneggiatura scritta da chi scritta da chi io però voglio ribadire il concetto che la battaglia di Enzo Tortora prima e mia oggi come presidente della fondazione Tortora non è una battaglia contro la magistratura io credo che la nostra battaglia renda onore alla magistratura più di quanto faccia quelli che lo difendono perché Tortora quando si dimise dal Parlamento europeo dopo la sentenza di condanna a dieci anni nel suo saluto all'assemblea che non voleva votare le sue dimissioni disse io devo dimettermi per rispetto del mio elettorato ma per rispetto della magistratura del mio paese quella magistratura di giustizia che onora la toga contro quella magistratura di potere che invece la disonora e poi aggiunse davvero uomo libero e di cultura e comunque non temete io torno in carcere ma sarò più libero di coloro che mi ci hanno mandato allora io vorrei tanto che si ponessero dei punti fermi voi come avvocato sapete ormai dal 2016 che ho pubblicato anche con voi grazie a voi le lettere che Enzo mi ha scritto dal carcere e sapete del mio peregrinare per parlare di questo libro e raccontare quello che Enzo in presa diretta dal carcere racconta io ho incontrato tanti magistrati abbiamo discusso difendere a oltranza i di Persia i di Pietro Fontana il presidente come si chiamava tutte persone tutti i magistrati che hanno avuto carriera che hanno fatto carriera e mi perdonerà il dottor Cantone ma è anche offensivo alla memoria di un uomo per bene che è morto di mala giustizia perché non è che ci si piglia con tutti perché sarebbe sbagliato io vado nelle scuole e dico ai ragazzi che bisogna rispettare la magistratura che sono i testimoni le sentinelle della legalità ma la magistratura Gandhi diceva chi vuole rispetto deve dare rispetto ecco la magistratura se vuole rispetto lo deve anche dare però poi alla fine io mi dico un'altra cosa e mi viene in mente Petrolini quando in teatro a uno che lo fischiò gli disse guarda io non ce l'ho con te ma ce l'ho con quello accanto a te che non ti ha buttato di sotto perché se si continua in questa logica di corporazione dove bisogna difendere anche l'impossibile e allora la giustizia in Italia non tornerà mai a una normalità a meritare lo stato di diritto ora ci sono questi referendum io guardate non sono giovanissima e si vede ma sono andata alla mia età per le strade a prendere chiudendo i tavolini come una buona militante radicale a raccattare le firme sui referendum della giustizia perché siccome avevo sentito che molti non avrebbero votato quei referendum che erano stati fatti propri anche dalla Lega volevo togliere qualsiasi alibi e quindi dico benissimo lo faccio io come fondazione Tortora voi non avete idea la gente che veniva ma prima ancora di aprire il tavolo che voleva firmare quindi questa risposta alla fine è proprio il simbolo il segno che c'è una volontà di cambiamento per fortuna per fortuna la gente ha aperto gli occhi perché fino a un paio di anni fa con il boom elettorale dei 5 stelle noi guardate se avessimo fatto il tampone del giustizialismo sarebbe stato positivo per tutti paradossalmente a dispetto dell'87 86 quando noi abbiamo raccolto le firme per il referendum ma anche lì della responsabilità dei magistrati se noi avessimo fatto il tampone in quell'epoca in pieno caso Tortora il tampone sarebbe risultato negativo perché c'erano fiori di giornalisti perché c'era una cultura più aperta più critica perché c'erano i biaggi c'erano i montanelli c'erano i bocca oggi abbiamo travaglio che vorrebbe tutti in galera però per fortuna questa morsa giustizialista si è un attimo fermata e allora questi referendum lo dico a voi ma so che gioco in casa sono fondamentali perché secondo me rappresentano un'ultima chance e io spero che questi referendum possano finalmente avere una soddisfazione legislativa non come quella dell'86 sulla responsabilità dei magistrati che fu vinto con una stragrande maggioranza di voti di sì dove la gente voleva i magistrati responsabili e poi invece tradito da una legge proprio parlo di tradimento da una legge la legge Vassalli una legge inadeguata quanto inapplicata e lo stesso Vassalli riconobbe che la legge non era all'altezza della sua potenzialità quindi che cosa volete che Enzo dicesse dopo quell'arresto Enzo ha vissuto e ha avuto il Raffaele della Valle glielo devo riconoscere la sua antenna la valvola a discarico perché un innocente accusato fra l'altro di reati gravissimi è ancor più personaggio famoso quindi come dire con i titoloni sui giornali tutti i giorni con delle accuse infamanti con delle accuse vergognose e patisce si soffre non dico che soffre più di Angelo che è stato arrestato a Foggia la sofferenza è uguale ma è una sofferenza incontenibile e voglio dire un'altra cosa non è vero che la sentenza di assoluzione ripristina la giustizia non c'è assoluzione dopo un arresto e dopo una condanna capace di essere di riparare il male fatto non è che si può dire sento molte volte dire dopo una soluzione che fa seguito a una condanna giustizia è fatta giustizia è fatta un corno il cristallo è rotto ma quella persona non potrà mai neanche essere risarcita economicamente qual è una cifra capace di riparare il danno fatto a Tortora non c'è non esiste ma non perché Tortora era personaggio famoso perché Tortora era un uomo per bene come ce ne sono tanti e la reputazione la dignità la famiglia l'onore una volta che si è toccati da questa violenza della mala giustizia non ritorna indietro l'orologio biologico della persona non ritorna indietro voglio dire quest'ultima cosa e poi passo la parola due mesi fa sono stata invitata a Treviso sempre da voi avvocati per un convegno il cui titolo era dal caso Tortora al sistema Palamara io appena ho visto questa locandina ho detto ma che c'entrano queste due cose sono proprio diverse però mi sono visto che io presentavo il mio libro Sallusti presentava il suo mi sono letta il libro di Sallusti che non finirò mai di ringraziarlo perché ha lasciato una testimonianza verba manent perché altrimenti sarebbe passato tutto nel dimenticatoio e nelle libere interpretazioni beh leggendo il libro di Palamara io ho ritrovato la teoria di quello che è stato applicato nella vicenda di Tortora ah i magistrati e parlo sempre dei magistrati di potere cercano il personaggio famoso perché così conquistano gli onori della cronaca diventano personaggi famosi Di Persia e Di Pietro Felice Di Persia e Lucio Di Pietro i due magistrati che firmarono l'avviso di garanzia a Tortora ebbero titoloni su tutti i settimanali oltre che sui quotidiani furono definiti i Maradona del diritto nell'83 Maradona aveva portato il Napoli a vincere lo scudetto e venivano riprese con delle foto personali mentre giocavano a calcio mentre erano in famiglia mentre gustavano la famiglia nelle loro ville popolarità dice Palamara che il magistrato di cui lui parla cerca la popolarità ma poi dice un'altra cosa Palamara dice un magistrato che vuole avere soddisfazione della sua inchiesta deve avere dei buoni sostituti avere una buona polizia investigativa deve cercarsi un bravo giudice cercarsi un bravo giudice capace di assumere quel processo e farlo suo questo è successo con Tortora guardate che la storia dei del di Tortona di questo che vendeva Coca-Cola l'interrogatorio che ne fa Sansone è terribile e bisognerebbe risentirlo dagli archivi di Radio Radicale quando insiste e lui alla fine mentre il giurista quello che ha studiato che è diventato presidente di corte che dice datemi la prova è lui che vende aranciate e Coca-Cola che gli dice Presidente facito un numero non era stato fatto il numero io lo trovo mi indigno e devastante dopo tanti anni io non riesco a farmene una ragione e allora non si può dire hanno fatto tutti i carriere non si può dire che come dire si sono che di Persi e di Pietro hanno agito in buona fede no perché guardate quando Tortora fu arrestato nessuno lui continuava a chiedere e Raffaele lo conferma ma qual è il capo di imputazione nessuno glielo diceva anche nella caserma di via in Selci a Roma nessuno glielo diceva dopo sette giorni dall'arresto il 23 giugno lui ha il primo confronto con i due magistrati un interrogatorio mi piacerebbe che lo raccontasse quello lo raccontasse Raffaele ma il particolare che voglio dire io è che l'unico elemento c'è perché chiedono Tortora lei è stata Ottaviano no lei conosce questa donna perché gli fanno vedere la foto di una camorrista no e anzi dice Enzo che mestiere fa la puttana cosa vuole che faccia come se Tortora fosse un frequentatore assiduo di puttana poi alla fine gli presentano una lettera in cui rivolta indirizzata a Tortora in cui si parla di una certa roba che avevano spedito che era stata smarrita e non era stata neanche pagata questa roba in una malevole interpretazione che non era stata neanche riscontrata neanche quella riscontrata dai giudici dai magistrati viene intesa come droga in effetti erano i famosi centrini che un detenuto aveva mandato a Portobello che si erano smarriti il detenuto Barbaro aveva fatto i centrini il detenuto Pandico compagno di Cella aveva scritto le lettere a quel punto Raffaele e Tortora tirano fuori la lettera che Enzo aveva scritto in risposta a quest'ultima minacciosa lettera protocollata dove dice Tortora gentile signor Barbaro mi dispiace che si siano smarriti i suoi centrini ma ho già dato disposizione all'ufficio legale della RAI perché le vengano risarcite con 800 mila lire il danno arrecato a quel punto il cancelliere smette di registrare e Di Persi e Di Pietro sbiancano in viso Di Pietro rivolto a Enzo dice buona fortuna Tortora la buona fortuna si augura a chi distribuisce i pianeti allora come a quel punto io penso che posso pensare ma proprio faccio una grande fatica che fino a quel punto Di Persi e Di Pietro e compagnia cantante siano caduti nel tranello dei due pentiti Barra e Pandico ma dopo quel giorno no quindi se io fino al 23 giugno posso parlare di un errore giudiziario dal 23 giugno io parlo di crimine giudiziario non è più un errore perché due magistrati per bene a quel punto avrebbero detto Tortora ci scusi abbiamo sbagliato ma siccome l'inchiesta napoletana era un cartello un castello di carte togliendo la carta Tortora sarebbe caduta l'intera impalcatura del processo e loro non si potevano sputtanare dopo 800 arresti e Tortora nelle lettere me lo scrive questi hanno già deciso e per salvare la loro faccia fottono me così è stato allora si può parlare di errore no è un crimine e il crimine poi è stato supportato grazie a un giudice Sansone che è stato capace di fare suo il processo anche oltre misuro con l'aiuto poi di Diego Marmo il quale e qui chiudo davvero quando finita la sua carriera di magistratura naturalmente questi signori sono stati tutti promossi hanno fatto splendide carriere anche Diego Marmo è andato a dirigere la procura di Santa Maria Capoavetere quando è andato in pensione voleva intraprendere la carriera politica e il sindaco di Pompei gli propose l'assessorato alla legalità io dissi che trovavo assurdo questo incarico perché era come un sindaco che dà l'incarico di assessore ai lavori pubblici a un ingegnere il quale ha fatto crollare tutte le sue costruzioni era proprio un assurdo in quel caso siccome ci fu grazie a Piero Sansonetti che nel panorama giornalistico è uno che sulle inchieste giudiziarie ci lavora molto e ci lavora bene e grazie anche ai miei interventi su tutti i giornali questa cosa aveva creato attrito quindi anche la proposta si era bloccata tanto da costringere Diego Marmo in un'intervista a chiedere scusa dice io chiedo scusa a Tortora perché in effetti lui è stato una persona per bene si è dimesso dopo la condanna confermando di essere una persona per bene e il giornalista che gli dice sì ma lei ha usato parole pesanti cinico mercante di morte gli ha detto che era stato eletto con i voti della camorra e dice quello è nella foga del parlare e dice ma lei però ha sostenuto l'accusa dice sì perché io mi sono fatto prendere dall'inchiesta e quindi ho sostenuto l'accusa questo è stato il teatrino amaro del caso Tortora Tortora è morto con una battaglia sperando che altri casi Tortora non ci fossero quando è morto Leonardo Sciascia scrisse un editoriale su Corriere della Sera concludendo speriamo che non sia un'illusione a oggi ahimè che se ne dica la vicenda di Tortora non ha insegnato nulla anche per colpa di una classe politica pavida che non ha il coraggio di riformare ciò che è necessario per ripristinare lo Stato di diritto e quindi ancora oggi noi abbiamo tanta strada da fare io però continuo a dire che abbiamo ancora la possibilità di portare dei correttivi e di farlo nel nome di Tortora perché è un uomo per bene un grande del novecento un uomo che è morto di mala giustizia che è morto dicendo la mia battaglia e perché la giustizia sia giusta in Italia e allora qualunque cosa noi riusciremo a fare io lo farò fino a quando avrò fiato sarà proprio nella memoria nel ricordo e per rendere merito a quello che ha fatto Enzo Tortora Sì Raffaele prima di passare la parola alla Mariolina per il ruolo dei media nella vicenda ti chiediamo di raccontarci al dottor Cantone che forse gli sottraggo un attimo di tempo ma lo faccio proprio nello spirito di una collaborazione perché posso capire che questo processo è stato così contorto è stato così di vaste dimensioni che possono essere sfuggite dei particolari che credo sia opportuno che il dottor Cantone data la sua autorevolezza sappia anche per il modo che il futuro può contrastare o può cambiare eventualmente la sua opinione i suoi convincimenti e vorrei evidenziare due cose il famoso interrogatorio del 23 giugno in quel famoso interrogatorio ho vissuto uno dei momenti più drammatici e al tempo stesso anche più illusori della mia professione perché quando la prova secondo l'accusa quattro domande cioè questo processo di cui si parlava nel mondo i due sostituti in atteggiamento vorrei dire molto 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 reclamistico uno portava i Ray-Ban proprio si sentiva all'apice della sua della sua funzione e della sua importanza in questo quindi occhiali scudi Ray-Ban non potevi guardare negli occhi non vedevi nulla quattro domande ha già anticipato Scopelliti la prima è mai stato a Ottaviano lui risponde mai però ho scritto su Ottaviano e aveva scritto su una rivista che poteva anche non avere uno spessore intellettuale ma che però era di vasta tiratura che era il Monello soprattutto la leggevano i giovani ho scritto su Ottaviano ho scritto sulla camorra di Ottaviano cioè con scritti severi in sintonia con quello che poi prese il dottor Cantone quando di contrasto sgominò la banda la torre eccetera seconda domanda una carta di identità sgualcita coppia di una carta di identità sgualcita che si rappresentava in un modo proprio veramente nebuloso una donna conosce questa donna guarda la gira no ma mi dio qualche indicazione cosa fa e la risposta fu emblematica e lì ho vissi il dramma ho detto addio questo qui pensa che Tortola sia proprio ci fa la puttana cioè lei cosa vuole che frequenti lui che era della RAI un esponente della RAI uno studioso è una puttana che lei frequenta la terza domanda fu una domanda estemporanea e finalmente i centrini siccome si ne è parlato nelle morie tra il 17 e il 23 dell'episodio dei centrini io ho corsi dalla povera Barbieri che poverina è morta che è la segretaria di Tortora per andare a rovistare la corrispondenza che Tortora riceveva settimanalmente per Portobello ed erano domande per poter aderire a questa trasmissione di tutte le persone dal più umile al più grande c'erano avvocati magistrati medici eccetera che volevano partecipare riesce a reperire tutto un carteggio enorme di questa corrispondenza che due anni prima un anno prima tre anni prima non ricordo era intervenuta tra Tortora ufficialmente e Pandico registrata dalla RAI con timbre eccetera dove si parla di questi centrini dove Tortora dice Ciro non ha mai ricevuto nessuno cosa fa quel difensore produce e dice è risolto il caso ho risolto il caso perché se questa è la prova di tutta questa cosa qui impalediscono i due magistrati ma si emoziona il cancelliere il cancelliere rimane paralizzato e io dico signor giudice stupidamente l'ho chiamato anche giudice però era questa mentalità che si chiamava talvolta il PM anche giudice sbagliando pur facendo l'università e pur facendo l'avvocato e dissi è finita la situazione mi pare che ci troviamo di fronte a questa fattispecie un medico opera apre lo stomaco però prima di operare c'è la ferrista che conta i ferri normalissimo chi ha avuto esperienze di carattere medico il medico opera chiude la ferrista conta i ferri manca un ferro è molto semplice si guarda intorno se il ferro non c'è cosa si fa non può essere stato il padre eterno a sottrarre dalle vaschette il ferro si riapre e poi si ricuace e finisce la storia il processo doveva finire lì ha ragione quando dice quelle cose e la scoppelliti invece da lì comincia il tiro alla tortora da lì comincia che si va a rovistare chi si offre perché chi si offre a portare l'obulo accusatorio ha dei premi e bla 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 non voglio più dire e finisco sempre per il dottor Cantone perché lo sappia in modo che anche lui un domani possa rivedere il suo giudizio per l'amore del cielo la dignità di tortora si racchiude in documenti ufficiali questa è una lettera che mi scrive il 3 febbraio 86 quando è stato condannato già a 10 anni e ci accengiamo a depositare i motivi d'appello e lo dico per i non esperti in allora bisognava chiedere per ottenere un appello se non chiedevi non ottenevi neanche la subordinata 10 anni se tu chiedevi la soluzione però se va male datimi almeno 5 anni se non lo chiedevi eri fottuto come si vuol dire carissimo Raffaele in queste ore stai per depositare i motivi d'appello per l'indegna vicenda che mi riguarda a questo proposito ti chiedo e in modo formale di non aggiungere in modo alcuno nessuna subordinata cioè 10 anni nessuna subordinata alla richiesta della mia proclamazione ma deve essere una richiesta netta e senza ambiguità della mia assoluta innocenza troppe volte le formule dubitative lasciano il fango che non è l'insufficienza di prove ma l'insufficienza di certi giudici cioè lui non vuole neanche che sia chiesta quantomeno la soluzione per l'insufficienza di prove e di certi metodi hanno consentito il tempo è finito io ripeto ti chiedo di non aggiungere motivi alcuni subordinati la mia estraneità da questa vergogna non uso neppure la parola innocenza non ne ha bisogno per me anzi costituirebbe una questo sta parlando uno al suo avvocato che digli o chiedi l'innocenza la soluzione completa altrimenti mi faccio dieci anni sfido chiunque nel nostro pianeta avere suggerito agli avvocati una volta condannati di non chiedere le subordinate per me anzi costituerebbe un'offesa un affronto non inferiore di quelli che da quasi tre anni certuni con una stolidità pari soltanto alla loro ferocia mi stanno facendo subire questo è l'uomo Tortora e allora la giustizia deve avere anche l'umanità deve sapere anche cogliere deve sapere anche capire non è un robot il pubblico ministero questo è il valore di Enzo Tortora questo è il documento ufficiale sono elementi che fanno riflettere e nonostante questo in appello troviamo un procuratore generale dottor olivares quel nome che evocava un procedimento penale dell'inquisizione che ha avuto il coraggio di dire che Tortora simulava la malattia e dopo pochi mesi è morto simulava la malattia quindi voleva spacciarsi per malato quando invece era sano come un pesce questo abbiamo dovuto sentire nelle aule giudiziarie e questo credo che non sia consentito nessuno negli avvocati nei magistrati nei preti nelle suore nei politici perché c'è solo una verità e comunque se c'è una verità processuale va rispettata la dignità umana che è la prima cosa e qui di Tortola si è fatto lo scempio non solo dell'uomo ma della sua dignità bene bene sulle parole dell'avvocato della valle quindi dello scempio della dignità di Enzo Tortora vorrei riflettere con la Mariolina Sattanino dove sbagliarono i media all'epoca con il caso Enzo Tortora e soprattutto a distanza di tutti questi anni i media hanno fatto tesoro di quell'esperienza è cambiato qualcosa o nulla è cambiato Mariolina Allora buonasera a tutti grazie di avermi invitato a questo evento fra l'altro l'emozione di parlare in pubblico finalmente in presenza è molto è molto grande dopo tanto tempo e soprattutto grazie per avermi invitato a ricordare la vicenda di Enzo Tortora che che qui culminerà poi in un bellissimo spettacolo che vedremo assieme ma che doverosamente abbiamo voluto far precedere da un dibattito perché a tanti anni di distanza il caso Tortora resta una pietra migliare non solo il caso più famoso di ingiustizia il più famoso errore giudiziario della storia d'Italia ma perché è giusto ricordare Tortora come voleva lui che lo si ricordasse non il caso umano ma l'episodio di mala giustizia che accende i riflettori sugli errori e le storture della giustizia italiana e della stampa e dei giornali italiani proprio su Tortora francamente non si può fare alcuna difesa di alcuna categoria perché veramente ci si deve chiedere come è potuto accadere adesso abbiamo ascoltato dall'avvocato della valle e da Francesca delle ricostruzioni del processo io vorrei soltanto leggervi perché è giusto perché se no sembra che questa cosa fosse vissuta soltanto nelle aule giudiziarie vi vorrei leggere rapidamente qualche passaggio allora Camilla Cederna la domenica del Corriere Camilla Cederna era un faro del giornalismo italiano e viene citata come una delle più grandi giornaliste del Novecento scrive mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni capite l'inversione del ragionamento cioè una cosa allucinante il personaggio non mi è mai piaciuto e non mi piaceva il suo portobello mi innervusiva il pappagallo lui che parlava troppo senza dare tempo di esprimere le opinioni agli altri non mi piaceva neppure il modo con cui trattava gli umili questo portare alla ribalta per un minuto la gente servirsene eccetera eccetera il successo ottenuto così si paga non dico che tutti quelli che hanno un successo di questo genere finiranno così ma lui lo sta pagando in questo modo non ho per ora altri elementi per dire di più cioè Tortore è stato condannato a morte perché secondo me è stata una condanna a morte perché un dolore come quello che gli è stato inflitto genera e si sa in medicina una caduta delle difese immunitarie che porta al cancro che è dimostrato che può essere una malattia psicosomatica ecco perché perché aveva successo sentite quest'altro tale Marino Collacciani del tempo Enzo Tortora rivela una calma addirittura sospetta al momento dell'arresto perché se si fosse agitato invece era innocente le labbra mosse con flemma i muscoli del collo e della faccia tirati la voce compazzata sembrano voler ricordare riprodurre a tutti i costi il personaggio del piccolo schermo amato dalle massaie e un altro del giorno scrive e ho finito dosando con grande mestiere indignazione e sbigottimento arretto bene la parte della vittima innocente quindi voi vedete che veramente ascoltando quello che è successo negli interrogatori e nelle aure giudiziarie e quello che è stato pubblicato dai giornali ci si chiede veramente come nel 1983 in Italia sia potuta accadere una roba del genere cioè come ci potesse essere una manica di cialtroni narcisisti individualisti privi di senso del dovere che hanno preso questa vicenda per il loro carrierismo per mettersi in luce ora i giornalisti hanno sempre avuto bisogno dei magistrati e ancor più i magistrati hanno sempre avuto bisogno dei giornalisti per sostenere per sostenersi reciprocamente il fatto che molti che molte notizie arrivino ai giornali senza che gli avvocati difensori lo sappiano dimostra soltanto una cosa che sono nella maggior parte dei casi i magistrati a passargliele non bisogna dimenticare però un'altra cosa e qui non è una difesa di categoria ma è giusto ricordare come esattamente stanno le cose quando gli atti vengono depositati diventano pubblici quindi i giornalisti perché li pubblicano proprio perché sono pubblici e perché grandi giornali a volte entrano in dettagli della vita privata in intercettazioni che non c'entrano niente con le inchieste eccetera va semplicemente perché ormai tutto viene alla luce viene portato all'attenzione del pubblico se non lo pubblica uno lo pubblica un altro se non lo pubblicano i giornali lo pubblica un blog se non lo pubblica un blog lo pubblica twitter e via di seguito quindi quello che noi ci chiediamo come è potuta accadere una mostruosità di questo genere ma potrebbe accadere ancora io dico che grazie a Tortorei al suo impegno civile e politico forse non è possibile un caso così clamoroso le cose che vi ho letto io non credo che andremmo a leggerle negli stessi termini perché sono cioè si sfiora veramente il tragico e il ridicolo però sicuramente il rapporto fra magistratura e stampa è sicuramente un rapporto malato potrei raccontare tanti episodi capitatemi anche direttamente non sarebbe forse non è non è qui il caso di dirlo vi dirò soltanto uno solo ve ne racconto di un magistrato che stava parlando con un giornalista e di questo posso rispondere al 100% non è una cosa inventata o riferita e a un certo punto ho detto si va bene io te li do i verbali però tu mi devi garantire che su panorama esce anche la mia foto capito allora allora questo anche questo è un episodio del passato ci chiedevamo noi se le cose sono cambiate secondo me è cambiato tutto ma non è nemmeno cambiato niente perché la responsabilità civile dei giudici l'abbiamo sentito dalla senatrice Scopelliti la riforma Vassalli è un po' acqua fresca nel senso che non si vede per quale motivo un medico risponde del suo operato il commercialista risponde del suo operato l'avvocato ha maggior ragione il dentista l'odontotecnico eccetera il pubblico ministero che porta un'inchiesta in aula e le cose si chiudono con il fatto non sussiste ma non dovrebbe almeno dallo Stato subire un minimo di risarcimento per il tempo perduto per i soldi spesi il fatto non sussiste ci vorrebbe qualcosa lì che ci dicesse che qualcosa è andato storto quindi responsabilità anche perché uno Stato che affida il destino di un suo privato cittadino a un altro cittadino il quale non ha controlli se non quelli del collega della porta accanto forse non fa fino in fondo il suo dovere quindi parliamo di responsabilità parliamo anche di test psicoattitudinali visto che vengono eseguiti praticamente per tutti i funzionari dello Stato parliamo di divisione delle carriere visto che sono due proprio atteggiamenti psicologici due rami esistenziali completamente diversi e poi parliamo anche di produttività cari amici perché la produttività delle procure non è omogenea nel nostro paese quando si dice le leggi sono troppo complicate sono troppe anche i giudici non le conoscono eccetera ma allora perché c'è tanta differenza nella produttività fra una procura e l'altra questo è un danno per tutti per tutti noi per tutto il paese per la competitività del nostro paese ecco tutte queste cose invece di pubblicare tanti verbali di tante intercettazioni secondo me i giornali dovrebbero spiegare in maniera più chiara e batterci molto di più su queste su queste questioni io capisco che la magistratura è un potere autonomo dello Stato in quanto tale ha un atteggiamento conservativo e quindi molto difficile molto difficile cambiare ma non ci dimentichiamo che è un potere che deve fare rispettare le regole del paese se un magistrato è corrotto è più grave di un corrotto normale ecco mi sembra di aver letto molto recentemente delle dichiarazioni del dottor Cantone ma se un magistrato ecco se all'interno della magistratura il merito è calpestato come per esempio è venuto fuori appunto con il caso Palamara eccetera eccetera se si nascondono delle prove a difesa come è venuto fuori recentemente a Milano cioè il paese ha la sensazione che si sia in una situazione di ingovernabilità della magistratura ma una magistratura debole e delegittimata una stampa senza credibilità né prestigio sono un problema gigantesco per tutti quanti secondo me purtroppo il male che corrode il nostro paese è generalizzato la logica dell'appartenenza la logica mafiosa della cooptazione il clientelismo e poi a livello individuale la vanità il narcisismo la mancanza di senso del dovere veramente come diceva l'avvocato della valle bisogna bisognerebbe tornare a un paese corretto ha dei valori di rispetto della dignità umana senza tutte queste connivenze la sensazione che noi siamo in un momento di passaggio in cui se vogliamo migliorare tutti noi insieme qualcosa lo possiamo fare ognuno nell'ambito della propria professione e ricordandoci anche perché abbiamo deciso di impegnarsi in professioni che poi sono comunque dei servizi al pubblico e quindi concludendo dicevo non bisognerebbe fare un discorso un po' anche più più lungo perché gli editori non sono editori puri nel nostro paese hanno interessi nel mondo dell'imprenditoria del business quindi i politici non hanno alcuni interesse a mettere mano a certe cose tant'è vero è stato ricordato anche stasera che la riforma cartabia ha modificato molto poco eppure è stata attaccata dalla magistratura universalmente allora magari partiamo dalle piccole cose un segno di speranza piccolissimo è venuto da questo nuovo regolamento della ministra cartabia basta con i nomi ad effetto per rafforzare la presunzione di innocenza non ci saranno più i titoli Magnilo Que Pizza Connection Mafia Capitale poi ce ne sono tanti ce ne sono tanti Why Not Angeli e Demoni Pizza Connection ve le ricorderete tanto bene ecco questo secondo me è un piccolo granello di sabbia che può essere messo nell'ingranaggio della spettacolarizzazione della giustizia e che si fa come il lancio di un film il titolo troviamo il titolo a un libro a un film questo è un piccolo segnale però secondo me dovremmo seguire questa strada ecco questo è grazie grazie Mariolina io per carità chiudo lì da dove eravamo partiti io ritengo che i media abbiano guadagnato abbiano marciato sul colpevolismo sul giustizialismo perché hanno trovato sempre terreno fertile hanno trovato sempre un'opinione pubblica secondo cui il soggetto è colpevole fino al terzo grado di giudizio poi ce lo dimentichiamo se invece l'opinione pubblica fosse intimamente garantista intimamente garantista se l'opinione pubblica fosse convinta avesse questa sensibilità secondo cui un'indagine non è nulla è solo un'indagine i media a chi interesse avrebbero a pubblicare i nomi siamo noi il cambiamento e in ognuno di noi il cambiamento noi dobbiamo essere garantisti noi dobbiamo cogliere il senso il significato di quello che abbiamo studiato e dobbiamo essere in grado di trasmetterlo a chi neppure ne ha letto di garantismo solo così ne usciremo tutti solo così riusciremo a raggiungere la razio di coloro che hanno pensato a quell'impianto costituzionale io vi ringrazio volevo chiedervi però se qualcuno di voi avesse qualche domanda se in qualcuno di voi ci fosse della curiosità su quello che accadde ad Enzo Tortora me lo chiedeva anche l'avvocato della Valle sì dottor Cantone ci lascia scusa non ciò sì prima che vada via il dottor Cantone dottor Cantone con molta stima a me farebbe piacere che farle omaggio del libro che raccoglie le lettere di Enzo Tortora perché vista l'epoca la sua giovane età probabilmente questa presa diretta dal carcere era come un'inchiesta giornalistica lui in presa diretta mi racconta quello che succede e mi farebbe piacere fargliene omaggio perché me lo faccia dire dall'alto dei miei oltre 70 anni forse anche lei ha bisogno di questa buona sana lettura io vorrei anche la vorrei dire una cosa ma un secondo un secondo perché vorrei ricordare con la presenza del dottor Cantone che comunque noi abbiamo un paese in cui la corruzione e la criminalità organizzata hanno un tasso di attività molto superiore rispetto alle democrazie occidentali quindi salvaguardiamo poi anche il lavoro della magistratura e non buttiamo il bambino con l'acqua sporca grazie grazie dottor Cantone questo era doveroso torniamo a noi qualcuno ha delle domande delle curiosità su quello che accadde non vedo ma ne alzate io quindi mi accingerei a concludere ops attenzione mi accingerei a concludere questa tavola rotonda in tempo utile per gli attori che inizieranno lo spettacolo a breve comunicazione di servizio il bar è aperto per chiunque di voi volesse mangiucchiare qualcosa avere qualcosa in attesa che il palco poi venga ripristinato per lo spettacolo io vi ringrazio grazie di cuore ai nostri ospiti intervenuti interessantissimo grazie a voi che avete partecipato e lo devo ridire grazie agli amici del direttivo della camera penale che hanno realizzato un sogno grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi